Era di ritorno probabilmente da una serata con amici un giovane di Noi Cattaro quando ha perso il controllo della sua auto travolgendo un uomo di mezza età che si trovava tranquillamente nei pressi di un bar. Le condizioni di salute dell'uomo sin da subito sono apparse gravi e preoccupanti. Difatti è stato immediatamente trasportato d'urgenza all'ospedale di Venere di Bari dove è stato ricoverato dopo aver riportato a causa dell'investimento fratture e lesioni plurime. L'immediato intervento dei carabinieri della stazione di Noi Cattaro ha consentito di appurare che il giovane conducente, benché fermatosi immediatamente, nel momento dell'impatto fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti ed alcoliche. Pertanto, in ottemperanza alla recente normativa che ha introdotto il reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi e gravissime, per lui sono scattate le manette su disposizione dell'autorità giudiziaria e è stato posto in regime di arresti domiciliari.